Non c'è stato lo scontro made in Molfetta questa notte in Giappone tra Giulione Sabbi e Wamanuel Cichello. L'opposto bianco-rosso era regolarmente indistinta nel match tra Italia e Iran, valido per la seconda giornata della Grand Champions Cup. Il tecnico dell'ex Privia, secondo di Giulio Velasco alla guida della Nazionale Asatica, invece no. Ha deciso di rinunciare alla cremesse internazionale in corso di svolgimento in Giappone per restare in Puglia e allenare regolarmente la sua squadra di club in vista della ripresa del campionato dia 1. Dopo la sconfitta contro Latina ha scelto così decisione apprezzabile. Sin qui Molfetta alla prima storica esperienza nella massima serie ha esibito un doppio volto. Bello, vincente e convincente in casa, ne sanno qualcosa città di Castello e Cuneo, opaco e perdente invece in trasferta. Le sconfitte contro supercorazzate del nostro volley come Macerata e Trento ci stanno alla grande, quella più recente a Latina al cospetto di una formazione ampiamente alla portata decisamente meno. C'è un dato statistico che accomuna intanto le cinque esibizioni stagionali dell'ex Privia. Sono tutte terminate con il punteggio di 3-0 in favore della formazione di casa. L'auspicio è che questo trend possa continuare anche nelle prossime due partite. Il sestetto biancorosso infatti è atteso ora da un doppio impegno consecutivo davanti al pubblico del Palapoli. Si comincia mercoledì prossimo alle 20.30 contro Perugia, poi quattro giorni dopo, domenica alle 17.30. Il programma prevede l'abbinamento contro Verona. In attesa di cambiare rotta in trasferta, l'ex Privia è chiamata dunque a confermare il feeling con le gare casalinghe. Ha due occasioni per farlo in quattro giorni. Ha la possibilità di togliersi ancora delle soddisfazioni tra le big della Pala Volo Nazionale.